Siamo usciti dal sentiero, non si vede, contro Aurobo, un po' meglio. Siamo proprio di fronte a una vigna di buttugno dei colli piacentini, essere pure buona, uno piccolo c'è, io ho un assaggino giusto, educato, un assaggino educato. Guarda che furto, eh. No vabbè, ma il viticoltore non lo voglio mica rovinare, è un graffolo, è un assaggino minuscolo. Pace, veda mia. Niente, dai. No, ma possiamo così, magari perché lo schermo su... Guarda che roba, riesci a filmare lì? Io lo schermo non lo vedo. Guarda che roba, che vigneti. Fai un'inquadratura anche laggiù, guarda che... Io non vedo niente, vedo me nello schermo. Ma vieni intanto, non stare lì mezz'ora all'ora. Magari si vedeva. Sei bianco, guarda. Abbiamo filmato il ladro. Abbiamo filmato il ladro. E per forza, manco un mese. Eccolo qua. Colto sul fatto. Ecco qua, ho preso questa, viticoltore. Ho preso questa, gentilmente. Grazie. Sulla? Molto acerba. E per forza. Però adesso la porto a casa. E la lasci maturare. Esatto. Niente del tuo lavoro andrà sprecato, viticoltore. Bene, qui siamo su questa bella radura dei colli piacentini. Abbiamo aziende agricole antiche di collina tutto intorno. Vigneti, boschi. Una meraviglia. Possiamo lasciarli qui. No, no. No, perché poi tagliano e... Gli vengono a fare i plug-in dei trattori per lavorare. Buon. Vuoi fare fino alla macchina? Come vuoi. Eh, e allora fallo bene. Mi stai riprendendo l'ascella. Ma va, ti sto riprendendo la testa. Sì, bella testa. Il video migliore mai visto. Un uomo che cammina con un bastone in un campo. Cosa fa? Un uomo che cammina con un bastone in un campo. Con in mano un grappolo di uvarumano. Forza? Sì. Questo video è girato con un telefono maffo. Quindi se non è fluido, perché avrà solo tipo 16 frame per secondo. E c'è una bassa risoluzione naturale. Questo è il video commentato alla Vasco Rosso. Perché? Perché alla Vasco Rossi? Quanti mila frame sono? Quanti pixel ci sono qui? Prendi le meline. Le meline. Guarda. Hanno un ballone. Forse è la schiena di un... Un cinghiale. No, di un... Dai, no. Sei fighi. Sperditi, dai. Guarda le meline selvatiche. Questi qua i cinghi le mangiano. Assaggiamone una, dai. Poi vuoi morire? Sì. Quando è nel tempo, sì. Buonissima. Mela selvatica da cinghiale. Adesso si dice. Buonissima. Oddio. La buccia non è buona. Via. Ah, c'è qualche formichina. Anche il vego. C'è il vego. Ho diviso la mela col vego. Buonissima, vero? Buonissima. E poi la butta e la sputa. Ecco. Erba medica. Vandalismo. Bene. 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 Questo è tutto da Gene Preto. in partecipazione con Bear Grylls e il cameraman Antonucci Ivan. Questa è la nostra macchina d'epoca. Bene. Questo è tutto. A risentirci. Ed e. Eh. Fini. Ti mining. Questa è mi Korean. Con lei.